Ciao ragazzi, ciao a tutti i fans della pagina Esercizi di Bodybuilding. Oggi alleneremo le gambe, divideremo i femorali dai quadricipiti, iniziando con i femorali. Un bel circuito di cui gli esercizi saranno le car, pressa per i femorali, pressa 45 per i femorali, sit in car e stacchi alla rumena. I giri saranno il primo da 12, il secondo da 10, il terzo da 8 e il quarto da 6, con pause di 2 minuti. E le car saranno 8 più mezzo movimento, quindi saranno 1 e mezza, ok? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.